ciao a tutti da vjfocus anche oggi vi propongo un bel video mix a me piace molto questo video mix che ho fatto per voi e ci sono dei bellissimi live dentro ci sono dei live per esempio quello di marusha che mi piace tantissimo l'ho chiamato festival drums è un misto fa tecno trance vari stili musicali si festeggiano i dj si festeggia il divertimento si balla tantissimo e poi dentro c'è anche apollo rods mi piace tantissimo allora in english today i have prepared a techno trance music video mix for you festival drums is the name which recalls songs and dj's that you can see in the most reno festivals e a 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.